Buongiorno e benvenuti al TG Saldatura Flash di questa settimana. Yes Progress propone a giugno la prima edizione del 2014 del corso PND metodo UT tecniche avanzate. Valido per l'estensione della certificazione a livello 2 UNIEN ISO 9712. Pronto a rispondere alle richieste e alle esigenze provenienti dal mercato, Yes Progress offre la possibilità di frequentare questo modulo formativo anche a coloro che non sono in possesso della certificazione di livello 2 UT nelle tecniche convenzionali. Il corso, incentrato nelle tecnologie di controllo ultrasonoro TOFT e Phased Ray, è strutturato in modo da soddisfare quanto prescritto dallo standard UNIEN ISO 9712-2012 e consente a chi fosse interessato e ne avesse i requisiti di sostenere il relativo esame e conseguire l'estensione della certificazione come ispettore di livello 2 nelle tecniche avanzate. Il corso della durata di 40 ore si svolgerà presso la sede Yes Progress di Genova. Inizierà lunedì 9 giugno e terminerà venerdì 13 giugno. Per iscriversi è possibile fare riferimento alla segreteria della formazione di Yes Progress e per ricevere ulteriori informazioni di tipo tecnico è possibile rivolgersi al responsabile dell'area formazione controlli e ispezioni, ingegner Simone Rusca, oppure al docente del corso, il signor Luca Verzura. Cambiamo argomento e guardiamo da vicino le attività svolte dal laboratorio prove Yes Progress. Yes Progress ha recentemente concluso un progetto di ricerca finalizzato allo sviluppo di una stazione di saldatura automatizzata, Friction Steer Welding, per la realizzazione di giunti in lega di titanio di spessore sottile. Ce ne parla per noi l'ingegner Matteo Pedemonte, funzionario laboratorio Yes Progress. Ascoltiamo il suo breve intervento. Buongiorno a tutti, Yes Progress ha recentemente concluso un progetto di ricerca finalizzato alla progettazione e realizzazione di una stazione di saldatura pilota, Friction Steer Welding, per applicazioni sulla mire di titanio di spessore ridotto, pari a circa 1 mm o 1,6 mm. Il progetto è stato condotto in collaborazione con l'Università di Genova ed ha previsto nelle diverse fasi del progetto una prima messa a punto e realizzazione della stazione di saldatura vera e propria, che è questa quella che vedete alle mie spalle, e una seconda fase finalizzata alla realizzazione e progettazione degli utensili di saldatura. Infine è stata condotta una fase sperimentale di ricerca dei parametri di saldatura e realizzazione dei lamierini, che è durata circa un anno e che si è conclusa con successo, in quanto siamo stati capaci di realizzare dei giunti testa a testa saldati in Friction Steer Welding con caratteristiche meccaniche anche superiori a giunti saldati mediante saldatura tradizionale TIG. Per maggiori informazioni potrete contattarmi in futuro o contattare i miei collaboratori o il responsabile del progetto, Paolo Baccarini. 2013 di crescita per l'industria italiana dei robot. Sono stati presentati dal Centro Studi e Cultura di Impresa Ucimu Sistemi per Produrre, l'Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine Utensili, Robot e Automazione, e Siri, l'Associazione Italiana della Robotica e Automazione, i dati di consuntivo dell'anno 2013 dell'industria italiana della robotica. All'incontro, ospitato a Bologna, nell'ambito di Lamiera, l'evento espositivo dedicato alle macchine utensili lavoranti con tecnologie di formazione svoltosi la scorsa settimana, sono intervenuti Rezia Molfino, presidente Siri, Domenico Appendino, vicepresidente Siri e prima industrie, e Stefania Pigozzi, responsabile Centro Studi e Cultura di Impresa Ucimu Sistemi per Produrre. Dall'analisi dei dati elaborati emerge che, dopo l'arretramento registrato nel 2012, l'industria italiana della robotica è tornata a crescere. Nel 2013, infatti, la produzione italiana di robot si è attestata a 490 milioni di euro, il 5,2% in più rispetto al 2012. Il risultato è stato determinato sia dal positivo riscontro delle esportazioni, cresciute dell'8,3% a 195 milioni, sia da quello delle consegne sul mercato interno salite del 3,1% a 295 milioni. Anche il consumo italiano ha registrato segno positivo, più 4,9% per un valore pari a 515 milioni di euro. Il rapporto export su produzione è cresciuto, passando dal 38,6% del 2012 al 39,8% del 2013. Il comunicato stampa è pubblicato a pagina 4 di Saldatura Flash di questa settimana. Fra pochi giorni, martedì 27 maggio, si terrà a Genova, presso la Sara Conferenze Istituto Nautico San Giorgio, d'Arsena Porto Antico di Genova, l'importante e attesissima giornata Feel World, sviluppi e indirizzi per automazione robotica, sensoristica ed intelligenza artificiale applicati alla saldatura. Numerosi sono gli iscritti. Chi fosse interessato a partecipare, ricordiamo che è possibile ricevere le schede di partecipazione entro domani, il 23 maggio. Per conoscere i contenuti della manifestazione, sulla IES Web TV, cliccando sul canale Manifestazioni, è possibile seguire la presentazione a cura dell'ingegner Michele Murgia, responsabile della manifestazione. Sul sito IES, nella sezione Manifestazioni tecniche, è disponibile il programma, la scheda per iscriversi e la pagina delle indicazioni su come raggiungere la sede dell'evento. Vi aspettiamo numerosi. Concludiamo con questa notizia il nostro TG Saldatura Flash di questa settimana. Ricordiamo che ulteriori approfondimenti alle notizie evidenziate si possono trovare consultando Saldatura Flash numero 575. Vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento con le notizie dal mondo della saldatura alla prossima settimana. Grazie a tutti.